Ti ricordo che puoi iscriverti tramite il tasto all'home page e attivare la campanellina, così diventerai veramente un nuovo fortunato. Ah, e ovviamente lascia il like a questo video! Bella a tutti raguacchi, qui è Luckyman che vi parla e benvenuti nel quarto video di Minecraft. Oggi siamo nella famiglia di Minecraft, cioè vabbè famiglia di Minecraft, di Misteri di Minecraft, nuova serie. Faccio tantissime nuove serie, prima di iniziare volevo dirvi che se volete essere salutati dovete trovare questo logo in tutto il video, buona ricerca. Oh, sono appena tornato da quel concerto di Rama, sono stanchissimo, madonna. Devo dormire. Ehi, ma chi ha aperto la porta? Sento dei passi, non sarà niente. Amo degli uffi! Che sei tu? Questa ci fai anche la mia! Un alieno solo. Ma non ti posso peccare, cosa sei invincibile? Peggio di hit questo ragazzi, aiuto, aiuto, mi fa paura. Devo nascondermi, Rada, devo nascondermi. Non saprò mai dove mi sono nascosto. Anche perché ho un posto dove non ci vado quasi mai. Ok ragazzi, direi che qua sono nascosto perfetto. Quello è un vero ufo! E mi potrebbe uccidere un'altra volta! Non distruggere, vieni a uccidere. Cioè, cerca. Raga no, io ho troppa paura. Quello è un vero ufo, altro che SCP. Quello non è immortale, cioè... E si chiama Baby, cioè... È un ufo, secondo il nome, è stranissimo. Oh, madonna, io sento dei suoni. Sarà meglio uscire. Via, 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 via. Via dalla finestra, via dalla finestra. Spaccata. Per male o male che mi sono allenato nel parkour, non mi sono fatto niente. Aiuto, ce l'ho alla porta! Ah, ma non gli faccio niente, lo colpisco, ma non gli faccio niente! Ma cosa sei tu? Sono un ufo, un aniero. Ma da dove vieni? Dal pianeta a terra. Sì, dal pianeta a terra un ufo. Vieni qua. Aiuto, raga, aiuto. Alla mia casa non sono manco più al sicuro. Sa tutto. Cosa vuoi da me? Voglio il tuo cervello. Aiuto! Meno male che su Minecraft però va il cervello. Devi uccidermi cinque volte. Ma non ti piace la torta? Guarda, c'è la torta qua. Non ti piace la torta? A me piace la torta. Vabbè, scappo io intanto. Se l'entrappola. No! Ciao, ciao, be... Un'ultima volta. E sarò morto per sempre. Devo scappare. Non male che sono allenato nel parkour. Non mi faccio niente. Devo scappare. Ma mi stai seguendo? Non ho idea. No, noi mi stai seguendo grazie al cielo. Raga, questa città non è sicura. Cioè, io inizio a sbrinire in questa città. Ma cos'è? Spegniamo le luci. Magari non ci vede. Ah! No, raga. Oh, raga, raga, raga. Non voglio morire. No! Mi dispiace, signora Loppi. Ma devo entrare in casa. C'è un ufo che mi vuole mangiare! Sono in trappola. Dov'è? L'ho perso di vista. Scappo! Ho spaccato il vetro! Via! Di la casa di friend! Rompi, 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 rompi. Rompi, 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 rompi. Raga, scelo dietro! Tu non sapevi salire nelle scale. Guarda cosa fai signor ufo eh Cosa fai ora signor ufo Come riesci a uccidermi C'è il vero e non sei più capace Maledetto di un ufo Spacchiamo che ce ne andiamo Via Via Spacca 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 Libertà Via 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 Laga aiuto 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 Laga non mi sono allenato Per questo io ho paura E sono abituato a reccare i video Editare i video Ma questo qua è un ufo Sono lì tornata a casa mia Ma dove sei Aiuto ragazzi Questo qua potrebbe ucciderci a tutti in un minuto Meglio tornare a dormire Magari un sonno Non lo so Ehm Mirko parola si può arrivare Ehi Cosa ci faccio qui dove sono Ero a dormire Aaaaaaah Aiuto raga Devo morire Magari un sonno Devo morire A A Con cosa mi picchi Aaaaaaah Aaaaaaah Il braccio Aaaaaaah 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 Ok ragazzi Abbiamo finito Era un sogno Non era in realtà Era un sogno Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah